Ciao sono Bogdan, oggi volevo andare a spiegare il film Una poltrona per due, dato che siamo in prossimità di Natale tra un paio di settimane oramai oggi è il 6 di dicembre e come di consuetudine la vigilia di Natale va in onda oramai da oltre 20 anni, Una poltrona per due con Eddie Murphy magari vediamo brevemente la trama ma quello che interessa a me è vedere il lato finanziario, quindi la parte finale di come appunto si arricchiscono Eddie Murphy e il suo socio a discapito dei fratelli Duke ma prima, se sei nuovo sul canale, io sono Bogdan, parlo di business, investimenti, crescita personale, ho avuto un SRL attualmente vi sto dedicando all'attività di network marketing, praticamente e totalmente in maniera digitale abbiamo un'agenzia di marketing che ci supporta in tutto il percorso formativo di tutte le persone che entrano per posizionarci al meglio sui social, su internet e quant'altro, abbiamo l'esperta di coppia abbiamo membri della comunità medico-scientifica che fanno parte del team, gente che fa formazione da oltre 30 anni ma non è il tema di oggi, lascio qua sotto in ogni caso tutti i link una poltrona per due, classico, uno dei miei momenti preferiti delle feste ossia quando ci si mette a tavola e si guarda appunto una poltrona per due film degli anni 80, è uscito mi sembra nell'82, può essere in America e qualche anno dopo in Italia brevemente la trama allora, i protagonisti sono Wintorp e Valentine Valentine è appunto Eddie Murphy, il quale è un senza tetto l'altro è un dirigente di una società, la Duke & Duke appunto, dei fratelli Duke che opera sui mercati finanziari e fin qua ci siamo quando dico opera sui mercati finanziari le persone pensano sempre che i mercati finanziari magari siano solo le azioni, le obbligazioni eccetera in realtà ci sono migliaia di prodotti finanziari che possono essere comprati e rivenduti o venduti e ricomprati questa parte non è spesso chiara, ok? in questo caso nella parte finale del film si parlerà appunto di contratti future legati a a delle commodity cosa sono le commodity? le commodity possono essere il grano, il succo d'arancia surgelato eccetera come verrà utilizzato appunto alla fine del film quindi Wintorp appunto fa il dirigente in questa società che opera sui mercati finanziari Eddie Murphy è un senza tetto cosa succede? che per una casualità questi due si scontrano, si incontrano la prima volta i datori di lavoro, i fratelli Duke vedono questa scena e siccome avevano delle idee sociali in merito decidono di fare una scommessa ossia prendono la persona benestante, quindi il dirigente della loro azienda lo mettono al posto di Valentine quindi lo fanno diventare uno squattrinato senza un soldo e prendono Valentine a dirigere la società secondo uno dei due fratelli l'ambiente motiverà e potenzierà la persona presa dal nulla l'altro invece dirà no, guarda che è una sciocchezza è una cosa di DNA se uno ha le capacità può eccellere in qualsiasi ambiente e arrivare al successo questa è un po' la trama a questo punto ci sono varie situazioni tragicomiche da entrambe le parti quindi uno viene catapultato in una realtà benestante con maggiordomo, villa, auto di lusso eccetera e appunto lo mettono a guidare l'azienda a primo impatto un po' così poi decisamente di Murphy se la cava alla grande tutto questo fino a che scoprono che sono stati vittime di una scommessa da parte dei fratelli Duke per loro diletto, perché gli piaceva scommettere la scommessa per rovinare la vita uno e far eccellere l'altro era di un dollaro soltanto mi pare quindi è proprio puro svago a un certo punto del film quando scoprono della scommessa scoprono anche però che i fratelli Duke stavano per compiere qualcosa di illegale che non si può fare, ossia siccome volevano speculare sulle commodity in particolar modo sul succo d'arancia surgelato cosa succede? Che ogni anno viene stilato un rapporto in cui si dice se le arance saranno in abbondanza quindi l'inverno può essere mite quindi il raccolto delle arance sarà florido oppure l'inverno sarà molto rigido e quindi ci sarà carenza di succo d'arancia cosa succede in questo caso? classico ragionamento di domanda offerta quindi se ci sono meno arance il prezzo salirà se ci sarà abbondanza di arance il prezzo scenderà perché ce n'è in abbondanza appunto il prezzo è destinato a scendere cosa fanno? Loro intercettano il rapporto ufficiale che volevano i fratelli Duke ripeto è una cosa illegale non si può fare intercettare una cosa e specularci ok? si va in galera ok? c'è il penale a questo punto loro intercettano il rapporto ufficiale del succo di arance e che diceva appunto che nonostante l'inverno freddo le arance ce n'erano in abbondanza ok? quindi se le arance sono abbondanti il prezzo è destinato a scendere fanno recapitare però il rapporto inverso ai fratelli Duke quindi i fratelli Duke pensano che ci sia scarsità di succo di arance quindi il prezzo sia destinato a salire ok? quindi preparano tutti i capitali che hanno Winterp e Valentine quindi Eddie Murphy e il suo socio vanno a Wall Street per fare il colpaccio a discapito appunto dei Duke i Duke avendo il rapporto che loro pensavano fosse quello reale cosa fanno? visto che ci sarà scarsità di succo d'arancia noi mettiamo il 90-95% di tutto quello che abbiamo a livello di capitale e andiamo all in tanto sappiamo che il prezzo sarà destinato a salire quindi decidono di comprare tutto quello che possono quindi appena è possibile iniziare a comprare loro cominciano a comprare come i pazzi poi c'è una scena molto carina molto anni 80 della borsa in cui si urla si saltano fanno eccetera adesso ovviamente è quasi tutto digitale quindi non c'è neanche bisogno di fare tutto quel caos quindi loro continuano a comprare a un certo punto subentrano Eddie Murphy e Wintorp in cui decidono di vendere allo scoperto cosa vuol dire vendere allo scoperto? quindi loro man mano che il prezzo saliva e loro sapevano che sarebbe sceso perché le arance erano abbondanti loro iniziano a vendere la vendita allo scoperto è una vendita di un contratto di una cosa che tu non possiedi quindi tu sei obbligato innanzitutto a vendere dopodiché sarai obbligato a comprare a una certa cifra ok? quindi loro iniziano a vendere 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 in quel caso poi tutta la massa li segue perché pensano che sappiano qualcosa a un certo punto quando arrivano quasi al minimo cominciano a riacquistare le posizioni solitamente prima acquisti e poi vendi in questo caso nella vendita allo scoperto è il contrario quindi prima vedi e poi acquisti concludendo di fatto il contratto cosa succede? che i fratelli Duke hanno messo quasi tutto il loro capitale per una cosa che è andata al contrario di come si aspettavano quindi le percentuali che hanno perso i fratelli Duke le hanno guadagnate Winter e Valentine quindi le hanno resi alla fine della fiera molto ricchi quindi al di là del film di per sé quindi della comicità del film è carino vedere anche come funzionano di fatto tutti i giorni i mercati finanziari quindi da un lato ci sono persone che perdono soldi dall'altro lato ci sono persone che guadagnano soldi i soldi non si bruciano i telegiornali dicono bruciati mille miliardi non si bruciano in realtà si spostano e basta quindi delle persone perdono delle persone guadagnano dei soldi punto e basta questa era la mia spiegazione per una poltrona per due non mancatelo così magari fate anche bella figura a tavola spiegando appunto come Eddie Murphy guadagna e poi alla fine diventa milionario piccola chicca quattro anni dopo nel principe cerca moglie i due fratelli Duke fanno i senza tetto e Eddie Murphy quando passa ha un malloppo di banconote e glieli dà e appunto questa questa scena richiama una poltrona per due se ti piacciono questi video campanella e le solite robe lascio qua sotto il link per iniziare a lavorare con noi con qualche decina di euro ci sarà un webinar da vedere in 20 minuti ti possono cambiare la vita noi ci vediamo nei prossimi video ciao